Venere, Madre di Eneidi, ti doni la gioia agli dèi ed agli uomini. Per te, nel continuo avvicendarsi dei cieli, le navi vanno sui mari, le terre sono abitate, e tutto quello che nasce rifugia al buio e si apre alla luce del sole. Il vento si placa al tuo arrivo e le nuvole in cielo si fanno più rade. La terra industriosa ci dona fiori di ogni colore. Per te le marine sorridono mentre si spande nel cielo un roseo chiarore. Quando si annuncia tra noi la bella stagione che apre la strada al soffio fecondo di Zefiro, ogni uccello racconta di questo tuo grande ritorno con un canto ammaliato, turbato dal tuo potere. Branchi di fiere e di armenti attraversano i pascoli e guardano fiumi veloci. Sono pronti a seguirti ovunque tu voglia, sedotti da questo tuo incanto. Sui mari, sulle montagne, lungo i fiumi impetuosi, tra i nidi nascosti tra i rami, nei boschi e sulle pianure, tu suggerisci ad ognuno le dolci blandizie d'amore e in questo modo ci induce a perpetuare le stirpi. Tu puoi bastare da sola a reggere il mondo e solo per le tue grazie a noi è dato ammirare tutto quello che esiste di dolce ed amabile. Per questo ti chiedo un aiuto. Mi appresto a parlare della natura del mondo in versi che dedico a Memnio, che da te stessa fu ornato di meriti insigni. Associati a me, te ne prego. Per riempirli di incanto e dammi un aiuto perché i crudeli conflitti finalmente si plachino sulla terra e sui mari. Solo tu puoi donare a questa specie mortale un tempo di pace tranquilla. È Marte che regge le crudeli battaglie. Lui ama spesso tornare al tuo grembo accogliente, a sua volta colpito dalla ferita d'amore. Col caporeclino ti guarda, facendosi con desiderio della bellissima immagine e ti carpisce sul labbro il leggero ansimare. Quando poi si abbandona, ti prego, stringiti a lui, tienilo stretto e implora col tuo parlare soave per chi conceda ai romani una stagione di pace. In tempi così tormentati per questo nostro paese non riuscirei ad assolvere il compito al quale mi accingo né la gente di Memnio potrebbe, in modo proficuo, dedicarsi utilmente al bene di tante persone. Tutti gli dèi, come è noto, vivono senza passioni la propria presenza immortale in un clima sereno, del tutto estraneo e lontani da ogni pena dell'uomo. Non soffrono per il dolore, ignorano tutti i pericoli. Sono forti in se stessi, né hanno bisogno di noi, ma la gioia li esalta né li possiede il furore. Presta dunque l'orecchio e il sagace intelletto con serena fiducia a questa giusta dottrina e non respingere, solo perché non li intendi, i doni che ora ti porgo con amichevole zelo. Comincerò col parlarti della sostanza del cielo, delle credenze divine e della natura che crea con gli elementi primari tutto quello che esiste, lo sviluppa e lo nutre per poi tornare a dissolverlo. Sono questi elementi i semi di tutte le cose e sono loro all'origine di tutto ciò che si forma. Per questo noi li chiamiamo primari e generatori e nulla sarebbe possibile senza la loro presenza. Nel tempo in cui l'uomo viveva una esistenza infelice, oppressa dal peso di mille false credenze che gli impaurivano l'animo come orribili mostri incombenti dal cielo con minacciose visioni, fu un greco tra tutti i mortali, il primo ad osare di sollevare lo sguardo, ribellandosi ad esse, senza badare ai miti, alle continue minacce di punizioni celesti, né al brontolare del tuono, anzi, per loro stimolo osò varcare le soglie ancora mai superate del mondo della natura. La sua vigoria fece sì che l'impresa trionfasse e lo conducesse lontano, in spazi senza confini, donde tornò per spiegarci che cosa può nascere e che cosa non può e quali siano le regole per cui tutto quello che esiste nell'ambito della natura ha sempre caratteri propri e trova il suo limite entro i precisi confini in cui si svolge il suo ciclo. Così, ogni ubbia religiosa fu calpestata e la vittoria del greco ci ha portato più in alto. Ora potresti temere che qui ti si voglia iniziare ad una empia dottrina che può portarti al delitto. È vero proprio il contrario. Infatti, è spesso accaduto che la religione sia stata causa di crimini atroci. Questo accadde nell'Aulide, dove l'ara di Trivia subì la triste vergogna del sangue di Ifigenia per mano dei capi danaici, tutti guerrieri famosi. Quando la benda annodata sui verginali capelli si sciolse, posando leggera sul volto della fanciulla, lei vide il corruccio del padre davanti all'altare in mezzo ai suoi sacerdoti dai coltelli nascosti, mentre la gente d'intorno guardava piangendo. muta per il terrore, ricadde sulle ginocchia e annulla le valse l'avere per prima chiamato padre e il suo re. La presero mani maschili per non riportarla in letizia alla fine del rito al canto dell'imeneo, ma per una morte da pura per un impuro motivo nel tempo dovuto alle nozze, sacrificata dal padre affinché la sua flotta felicemente salpasse e uscisse indenne dal porto. A quali infami delitti la religione può giungere? Forse enti tu, Memnio, vinto dalle minacce di questi sacri impostori, potresti volerci lasciare. Sono tanti i fantasmi che essi sanno inventare per tormentarci la vita ed offuscarci ogni gioia. è chiaro che ognuno potesse senza queste paure convincersi che ogni miseria è destinata a finire. Quando giunge la morte saprebbe meglio resistere alle assillanti visioni di questi falsi profeti. Ma questo sembra impossibile perché costoro ci dicono che anche dopo la morte dobbiamo poterci aspettare infiniti tormenti mentre in realtà non sappiamo nemmeno che cosa sia l'anima se essa sia concepita insieme col corpo o se visionisca alla nascita se insieme col corpo perisca o se la attendano invece le oscure ombre dell'orco o i loro abissi profondi. Eppure sappiamo che cosa possa tornare alla vita occupando altri corpi come Ennio ha cantato quando colse per primo l'alloro sull'elicona e fu famoso per questo tra tutti i popoli italici. Ma fu sempre Ennio in altra occasione ad escriverci con mirabili versi le lande a Cherusie in cui vagano non anima immortali né corpi simili ai nostri ma pallidi simulacri disse che vi incontrò Omero sempre assai noto tra noi e il vate dopo aver pianto e avrebbe a lungo svelato le leggi della natura. Occorre perciò a mio parere saper guardare nel cielo per scoprirvi le forze che muovono il sole e la luna e ogni altra cosa del mondo. Occorre conoscere bene la vera natura dell'anima della ragione dell'uomo e di tutti i fenomeni che non riusciamo a spiegarci come quelli ad esempio che tanto ci fanno paura se il male ci oscura la mente o siamo immersi nel sonno per cui vediamo agire e parlare persone morte da anni i cui corpi da tempo giacciono sotto la terra. so quello che il greco scoprì ma non è facile esporlo in chiari versi latini per tante oscure scoperte di cui occorre parlare molte parole mi mancano per la povertà della lingua e gli argomenti inusuali ma per te Memnio e il piacere di esserti amico affronto questa fatica per cui nelle notti serene io resterò a vegliare pensando alle giuste parole e ai versi capaci di darti con dolce chiarezza tutti i lumi che occorrono perché tu riesca a scoprire traendolo fuori dal buio il mondo della natura questi oscuri timori che atterriscono l'anima noi dobbiamo scacciarli ma per questo non bastano il sole e la luce del giorno occorre solo conoscere dobbiamo iniziare partendo da questo principio che non esistono cose che siano nate dal nulla per un volere divino spesso si spaventiamo per eventi che accadono su questa terra ed in cielo di cui non riusciamo a scoprire la vera ragione per questo pensiamo che siano gli dei a volerli quando saremo convinti che mai in nessun caso qualcosa si crea dal nulla sapremo più chiaramente che cosa cercare e in che modo c'è un ordine proprio nel quale le cose si svolgono senza intervento divino se provenisse dal nulla qualsiasi specie potrebbe attecchire dovunque senza bisogno di un seme l'uomo uscirebbe dal mare e un pece sguamoso spunterebbe dal suolo dal cielo cadrebbero uccelli armenti branchi di pecore bestie mansuete e feroci generate dal caso vivrebbero insieme sui campi né coglieremmo da un albero un frutto soltanto ce ne darebbe moltissimi bastando un seme per tutti se ad ogni cosa mancasse il germe che la feconda come potremmo conoscere la sua sicura matrice per questo ogni specie dispone di un seme che è suo per cui giunge alla luce con propria forza spontanea ovunque vi sia qualche umore capace di darle la vita se ad ogni cosa compete un proprio potere creativo è anche sbagliato affermare che tutto nasce da tutto perché la rosa fiorisce solo nel mese di maggio il grano matura d'estate e la vigna d'autunno perché solo in un tempo sono giuste le unioni di ciò che porta alla vita una specie precisa perché ciò che spunta lo fa nel momento in cui deve e quando la terra lo spinge a venire alla luce se invece ci fosse qualcosa che nasce dal nulla verrebbe fuori per caso anche nel tempo sbagliato non esistendo quei semi a cui la stagione nemica impedisce ogni sforzo per affacciarsi alla vita né occorrerebbe del tempo venendo essi dal nulla per maturare quei semi seppure riuscissero a unirsi a un tratto bambini immaturi diventerebbero adulti e dal suolo improvvisi verrebbero fuori degli alberi se ciò non accade è solo perché come ho detto ogni cosa ha un suo seme che s'apre nel tempo dovuto seguendo la propria natura e può svilupparsi sereno perché la natura provvede a tutto ciò che gli occorre va anche detto che senza stagioni di piogge la terra non ci darebbe i suoi frutti gioiosi né una specie vivente potrebbe privata del cibo riprodurre se stessa e perpetuarsi nel tempo esistono degli elementi che sono comuni a più cose come le lettere uguali sparse in parole diverse ma non c'è niente che possa crearsi senza di loro perché non esiste qualcuno che sia tanto grande da attraversare in un passo vasti oceani profondi o separare spingendoli grandi massicci montani o sia longevo abbastanza da vivere tempi lunghissimi tutto quello che esiste richiede tanta materia nel momento in cui nasce quanta ne occorre a formarlo ma ogni cosa che nasce ha sempre bisogno di un seme che la sospinga ad offrirsi al soffio leggero dell'aria anche per questo diciamo che niente proviene dal niente sappiamo tutti che i campi ben coltivati prevalgono sulle sterpaie nel dare frutti migliori perché nella terra vi sono elementi di tutto ma siamo noi che solcandola col nostro aratro diamo vita ai germogli in mezzo alle zolle rimosse se si partisse dal nulla pur senza il nostro lavoro anche il terreno più brullo potrebbe darci un raccolto vediamo che la natura nel dissolvere i corpi libera i vari elementi ma non li distrugge se no tutto potrebbe cessare all'istante di esistere se contenesse in se stesso qualche elemento mortale non occorrendo che giunga una forza a dividere le parti di cui si compone ed a disfarne la trama invece quello che esiste è fatto di eterni elementi congiunti tra loro e termina solo se forze adeguate vanno a scomporli con urti e ad inserirsi nei vuoti ma la natura non lascia che un solo elemento perisca se tutte le cose che il tempo ha già consumato risultassero estinte e quella materia distrutta come farebbe venere a continuare a far nascere le nuove generazioni ed in che modo la terra potrebbe concedere loro ciò che occorre a nutrirle quali fiumi o sorgenti raggiungerebbero il mare come farebbe l'etere a nutrire le stelle il lungo passare di un tempo senza principio né fine avrebbe alla fine esaurito tutto ciò che è mortale ma se invece è possibile che questa materia infinita possa tornare ad unirsi in epoche e modi diversi vuol dire che essa è composta da parti immortali e quindi quello che esiste non può finire nel nulla se ciò potesse accadere esisterebbe una forza che può distruggere tutto e se questa eterna materia non rimanesse unita seppure in modi diversi basterebbe un contatto per disfare ogni cosa perché non sarebbe più fatta di parti immortali che solo interventi esterni riescono a separare questi elementi si uniscono con vincoli di varia natura ma la materia non cambia e quelle unioni persistono finché non giunga una forza che possa distruggerle anche questo conferma che niente ritorna nel niente ma tutto si riconduce a questi elementi primari e semplici della materia i quali sono immortali vediamo sparire le piogge quando l'etere padre le riversa a rovesci in grembo alla madre terra per loro i raccolti maturano e i rami degli alberi si fanno pesanti di frutta è ancora per loro che esseri umani e animali riescono a sopravvivere e nelle vie cittadine corrono allegri i bambini mentre nei nidi dei boschi cinguettano i giovani uccelli pecore stanche e satolle pigramente si attardano sul pascolo che le ha nutrite e il latte sgocciola loro dalle mammelle rigonfie gli agnellini neonati vagano sull'erba molle con esidi zampe esitanti la giovane mente annebbiata da un cibo così generoso niente dunque perisce di quanto sembra che muoia ma la natura lo usa per nuove ragioni di vita ed ogni cosa che nasce si giova di un'altra trascorsa ho detto finora che niente proviene dal niente e niente di quello che nasce può finire nel nulla ora perché tu non pensi di negarmi fiducia dato che esistono corpi che non possiamo vedere ti parlerò delle cose che gli occhi non riconoscono ma di cui devi ammettere la loro reale esistenza la prima è il vento che frusta con forza le onde manda piccole navi strappa brandelli di nuvole e sibila sulle pianure è un turbine devastatore che sradica i tronchi e sfronda le cime dei monti spogliandole dalle foreste noi possiamo ascoltarlo per il suo gemito acuto e il milaccioso ululare ma non possiamo vederlo non avendo apparenza investe il mare la terra e contorce nel cielo ogni lembo di nuvola che riesce a carpire si espande senza una regola e tutto sconvolge come l'acqua di un fiume che ad un tratto stralipa e dilaga dovunque nutrita dai molti torrenti che le piogge copiose fanno calare dai monti insieme a tratti di bosco e ad alberi interi neppure i ponti più saldi sanno resistere all'impeto dell'ondata violenta quando la torbida piena preme impetuosa sui grossi pilastri di pietra con grande furore di strappa e travolge nei flutti enormi massi che schiacciano quello che incontrano lo stesso accade se il vento si mette a soffiare e si scatena fa come il fiume impetuoso e si abbatte con forza su una qualsiasi contrada nella sua foga travolge nel suo violento respiro tutto quello che incontra e lo trascina e lo trascina nel vortice eppure sappiamo benissimo che il vento non lo si vede benché per modi e violenza sia simile al fiume il quale al contrario è sempre visibile a tutti eppure sappiamo benissimo che il vento non lo si vede benché per modi e violenza si è simile al fiume il quale al contrario è sempre visibile a tutti così giungono a noi dai corpi odori diversi che non vediamo arrivare alle nostre narici che non vediamo arrivare alle nostre narici negli occhi fanno distinguere il flusso del caldo o del freddo invernale né ammirare una voce eppure si tratta di cose che hanno natura corporea perché giungono ai sensi toccare ed essere toccato può capitare soltanto a ciò che contiene materia i panni che abbiamo disteso presso la riva del mare di notte si inumidiscono e il sole di giorno li asciuga noi però non vediamo come quell'acqua si posi e quindi se ne distacchi per il tepore diurno quell'umore è composto di parti tanto minute che l'occhio dell'uomo non riesce a distinguerle l'anello che abbiamo portato al dito per anni con il passare del tempo è diventato sottile la goccia scava la pietra ed anche il vomere curvo dell'aratro si erode tracciando a lungo il suo solco benché sia fatto di ferro tutti possiamo vedere che il passaggio del volgo consuma il selciato fatto di sassi e le mani di bronzo dei simulacri posti alle porte dei templi si assottigliano sempre perché i viandanti le toccano vediamo che tutto diventa sempre più esile per i molti contatti ma la natura gelosa non ci lascia scoprire quali minime parti si stacchino in ogni momento anche non distinguiamo per quanto lo sguardo sia acuto gli apporti che tempo e natura danno con opera lenta a tutto quello che cresce né ciò che si perde a causa del tempo che passa o del salino del mare la natura si serve per questo di elementi invisibili tutto quello che esiste non si compone però di sola materia aggregata in ogni cosa c'è il vuoto di questo devi convincerti perché dovrai ricordarlo per non vagare nel dubbio errando nel buio e continuare a indagare le regole dell'universo chiamiamo vuoto uno spazio intangibile e sgombro senza il quale niente potrebbe mai muoversi funzione della materia è creare un ostacolo e di resistere a tutto quello che possa toccarla dovunque la incontri ma niente potrebbe spostarsi perché senza il vuoto non vi sarebbe alcun moto vediamo continuamente che sul mare ed in terra e nell'alto dei cieli cose infinite si muovono in ogni senso e maniera se non ci fosse quel vuoto non solo sarebbero prive del movimento inquieto ma non avrebbero mai potuto essere nate perché la materia remuta da tutte le parti sarebbe per forza di cose inerte e in riposo benché molte cose a toccarle si sembrino solide osservandole bene vi scopriamo del vuoto l'acqua attraversa la pietra ed impregna la grotta e le sue gocce cadendo gemono come in un pianto il cibo di cui ci nutriamo si sparge nel corpo gli alberi crescono e il frutto matura sui rami benché la linfa vi giunge montando dal basso fino alle cime più alte e si diffonde dovunque la voce penetra il muro la udiamo dentro la casa negli angoli più riparati il freddo arriva alle ossa questo non accadrebbe se il vuoto non consentisse una serie di spazi nei quali potersi insinuare perché fra due oggetti di uguale grandezza uno può avere un peso maggiore dell'altro se in una matassa di lana ci fosse la stessa materia che in una sbarra di piombo il peso sarebbe lo stesso perché la materia preme ugualmente sul basso mentre il vuoto non pesa per sua precisa natura se un corpo ci appare del tutto simile a un altro ma pesa di meno vuol dire che il vuoto è maggiore e se è più pesante di un altro anche se è uguale vuol dire che nel suo interno c'è un vuoto minore basta osservare le cose per potersi convincere che ovunque si guardi esistono spazi di vuoto occorre che ora ti parli perché tu lo sappia di quel che affermano alcuni in modo inesatto il pesce avanza nell'acqua dicono perché essa cede e gli consente il passaggio ossia quando il pesce procede si formerebbe uno spazio nel quale l'acqua fluisce con similari scambi di spazio tutto potrebbe spostarsi e muoversi liberamente pur in assenza del vuoto ma tutto questo si deve ad un errore gravissimo come potrà mai quel pesce spostarsi in avanti se l'acqua non lascia un passaggio e dove mai finirebbe l'acqua che deve fluire prima che il pesce si muova quindi o si nega che un corpo abbia un moto qualsiasi o si ammette che il vuoto è mescolato con tutto e permette in tal modo che tutto alla fine si muova pensiamo a due corpi piatti che rimbalzino indietro dopo essersi urtati occorre che l'aria riempia lo spazio di vuoto che si produce tra loro per quanto siano veloci i flussi dell'aria che occorre non riempiranno quel vuoto in un unico istante ma prima dovranno occupare lo spazio più prossimo e poi espandersi ancora finché il vuoto sia colmo sbaglia chi pensa che quando i piatti si stacchino questo avviene perché tra loro era chiusa dell'aria in quel momento c'è il vuoto dove l'aria non c'era poi giunge l'aria che gradualmente lo colma né l'aria avrebbe potuto se non ci fosse quel vuoto addensarsi in quel modo e tantomeno potendolo concentrarsi in se stessa unendosi tutta in un punto non perdendo altro tempo con infinite obiezioni noi dobbiamo accettare che il vuoto esiste dovunque potrei confermare il concetto con altri argomenti raccogliendo le prove di tutto quello che dico ma quello che sai è abbastanza per una mente intuitiva che possa da sola capire quello che c'è da conoscere quando la muta dei cani insegue una bestia il fiuto la spinge a dirigerci dov'è la sua tana le addita la strada sicura e ivi la guida ora che questo problema ti è stato proposto potrai riuscire da solo a vederne ogni aspetto anche senza il mio aiuto solo per quello che sai e se poi ti impigrissi e non dimostrassi interesse questo posso prometterti memnio sulla parola c'è tanto copiosa bevanda tratta da grandi sorgenti in questo mio dire soave composto con tanta sapienza che temo che possa raggiungerci una lenta vecchiaia e sciogliere tutti i legami che danno vita alle membra prima che con questi versi si possa infine esaurire tutto ciò che può dirsi su questo preciso argomento torniamo ora al discorso che avevo iniziato sappiamo che la natura consista in se stessa di due cose soltanto ossia la materia e il vuoto nel quale i corpi si trovano e possono muoversi per dire che c'è la materia bastano i sensi senza questa premessa generalmente accettata non ci sarebbe più niente a cui riferirsi per pensare a qualcosa che già conosciamo ma se non ci fosse lo spazio quel luogo che noi diciamo essere il vuoto mai niente potrebbe né ritrovarsi né muoversi in direzioni diverse e anche questo mi sembra di aver dimostrato oltre a materia e da vuoto non esiste in natura un altro modo di essere se non la materia ed il vuoto non c'è una terza natura tutto quello che esiste deve sempre rifarsi alla materia o al vuoto se la stessa massa è tangibile pur in modo leggero e possa aumentare o decrescere nella propria sostanza piccola o grande che sia sarà sempre materia se invece è un tratto intangibile che in nessun modo possa resistere a un corpo che gli passi attraverso sarà solo per questo una parte di vuoto perciò tutto quello che esiste possiede una propria energia e può subire l'azione di altre cose che agiscono lasciando che si realizzi ciò che accade al suo interno non può agire o spostarsi se non contiene materia né può offrire uno spazio se non rappresenta del vuoto oltre ai corpi e dal vuoto non c'è una terza natura che possa in qualche maniera considerarsi esistente perché e perché possa comunque raggiungersi i sensi o diventare l'oggetto di ciò che possiamo pensare tutto quello che ha un nome può riferirsi soltanto alla materia ed al vuoto in modo congiunto o casuale congiunto è ciò che non può separarsi o dividersi da un corpo qualsiasi senza causarne la fine la pietra che pesa il fuoco che arde l'acqua che scorre ciò che possiamo toccare ed il vuoto intangibile invece l'essere servi la povertà e la ricchezza la libertà la concordia e la guerra ed ogni altra cosa di cui l'avvento o il distacco non mutino in niente la sostanza dei corpi noi li chiamiamo accidenti anche il tempo lo è è solo quel che consegue dalle cose che accaddero in un lontano passato stanno accadendo adesso o accadranno in futuro né possiamo pensare che il tempo sia separato dal moto di tutte le cose e dalla calma quiete per questo quando diciamo che la figlia di Tindaro fu rapita e i troiani sbaragliati in battaglia non dobbiamo pensare che questi fatti avvenuti siano ancora reali che ne fu l'accidente già da molto fa parte di un mondo trascorso non esiste un evento che non sia un accidente per chi lo abbia vissuto e per il luogo in cui accadde se non fosse esistita una materia dei corpi degli spazi e dei luoghi nei quali i fatti si svolsero mai Paride principe pedilio sarebbe stato accecato dall'amore infuocato per la figlia di Tindaro provocando in tal modo quel sanguinoso conflitto né quel cavallo di legno avrebbe potuto introdurre tutti quei figli di Grecia dentro la rocca di Priamo dobbiamo dunque pensare che tutti quei fatti non esistono in sé e quindi non sono dei corpi né sono senza sostanza come accade col vuoto noi li possiamo chiamare più esattamente accidenti in quello spazio e materia in cui gli eventi si svolsero i corpi sono formati da questi elementi primari e ciò che con essi si forma è frutto del loro aggregarsi se non interviene una forza che possa dividere ciò che con essi si forma sanno resistere a tutto è impossibile invece trovare qualcosa che sia del tutto priva di vuoto e sia perciò indistruttibile la folgore passa attraverso il muro di casa come il rumore e le voci la brace arroventa il ferro e la roccia si sfalda per un calore selvaggio la durezza dell'oro si arrende al crogiuolo bruciante mentre il solido bronzo si scioglie in mezzo alle fiamme l'argento subisce il caldo ed il freddo e noi lo sentiamo quando con le due mani reggiamo una coppa in cui sia versata dell'acqua calda o fredda che sia è vero che nell'universo il vuoto si trova dovunque poiché la logica nostra è della stessa natura vogliono che lo ammettiamo ti dirò in pochi versi che i corpi sono formati da parti solide e eterne quelle chiamate semi o elementi primari da cui nasce ogni cosa di cui l'universo è composto poiché la natura è divisa tra queste due parti la materia ed il vuoto nel quale essa si espande e sono ben separate e di carattere opposto occorre che ognuna di loro non si mescoli all'altra dovunque si estenda lo spazio chiamato vuoto incorporeo non esiste materia né al contrario può esserci una presenza di vuoto dove vi sia già materia ogni elemento primario è solido e privo di vuoto quando diciamo che il vuoto si trova dovunque noi lo pensiamo rinchiuso in una materia compatta non è mai stato provato in nessuna occasione che in qualche cosa si trovi all'interno del vuoto che non sia contenuto e chiuso dalla materia né può esserci altro se non la materia aggregata che possa tenere rinchiusi questi spazi di vuoto questi elementi primari sono le parti più solide e sono tutti immortali il resto si disfa nel tempo se non ci fosse lo spazio che noi intendiamo per vuoto tutto sarebbe materia ma se non ci fossero i corpi che con la loro materia vanno a colmare gli spazi ovunque non ci sarebbe nient'altro che il vuoto vuoto e materia in tal modo continuamente si alternano perché non esistono il pieno né il vuoto isolati ma vi sono soltanto degli elementi più solidi che vanno a occupare i propri spazi nel vuoto e non c'è forza esteriore che possa annientarli o sfasciarli con urti o attaccarne all'interno la sostanza compatta o ridurli infrantumi tutto questo del resto è stato già dimostrato perché in assenza di vuoto niente potrebbe rompersi o dividersi in parti o schiacciarsi spezzarsi inumidirsi nell'acqua o gelare nel freddo o farsi bruciare dal fuoco che può distruggere tutto quanto più vuoto un corpo contenga in se stesso tanto meno è difeso da tutto ciò che lo assale questi elementi primari del tutto privi di vuoto sono come ho già detto di fatto anche eterni infatti se la materia non fosse stata immortale tutto sarebbe rientrato da tempo nel nulla ma ciò che possiamo vedere sarebbe arrivato dal nulla ma poiché ho dimostrato che nulla può provenire da nulla e quello che esiste al nulla non può ritornare occorre che questi elementi siano tutti immortali e che quando un corpo finisce il proprio ciclo vitale ritornino ad essere liberi andando a scambiarsi con altri questi elementi primari sono lineari e ben solidi per conservarsi nel tempo e garantire che sempre tutto quello che esiste nel tempo sia rinnovato infatti se nella natura non esistessero limiti per ogni ciclo vitale il tempo avrebbe ridotto questi elementi primari in stato da non consentire a ciò che sia costruito per compiere naturalmente un proprio ciclo vitale di riuscire a concluderlo noi vediamo che tutto può sempre andare distrutto in tempo più breve di quanto ne occorre per riformarsi e ciò che il tempo infinito avrebbe distrutto o sciolto è tale che nulla potrebbe rinascere nel tempo che occorre perché si possa rifarlo è chiaro che esiste un termine per ogni ciclo di vita perché vediamo che sempre le cose rinascono e ogni specie ha un proprio periodo preciso nel quale riesce a raggiungere il fiore degli anni se si accetta il principio che il vuoto si trova dovunque è facile rendersi conto considerando che il vuoto è in proporzioni diverse che anche con parti ben solide che siano formate le cose che appaiono più morbide come l'acqua e la terra l'aria stessa e i vapori se invece dovesse resistere anche elementi più molli come spiegare in tal caso come si formerebbero il ferro e le solide rocce se nella stessa natura viene a mancare un loro aspetto essenziale queste parti primarie sono solide e semplici e quanto maggiore è fitto è loro aggregarsi tanto più consistente è ciò che esse creano se non si accettassero limiti al frantumarsi dei corpi occorrerebbe pensare che possano giungere a noi da un infinito passato anche elementi primari rimasti sempre al riparo da ogni urto o pericolo come spiegare altrimenti che siano sopravvissuti magrado gli urti subiti nel corso di un tempo infinito se poi si ammette che abbiano una natura più fragile poiché per tutte le cose esiste un termine fisso entro il quale ciascuna completa il proprio destino la natura è indicato con proprie inflessibili leggi ciò che ogni cosa può fare restando quella che è fedele alla propria sostanza e ciò che ad essa è vietato che fate e la che ha l'ha l'ha che ha avanti questo e ha